Ho portato Mazz Pezzali dalla nonna Era davvero emozionatissima Ricordo che quando ero piccolo amice Avevo una radio montata dietro alla carrozzina Avevo sempre le sue canzoni a manetta E piacevano tantissimo anche alla nonna Abbiamo parlato tanto Ad un certo punto la nonna non ha più resistito Ha iniziato ad offrire cibo a tutti Povero Mazz Alla fine siamo scesi e gli ho fatto conoscere anche Gigi Grazie Mazz e grazie Debora Che ha reso possibile tutto questo